Camer, soluzioni per un autentico benessere. Piccoli ciceroni nel magico mondo della biodiversità. La scuola primaria Racchetti di Sondrio vede premiati gli sforzi fatti in questi anni per avvicinare i bambini al tema dell'ambiente che ci circonda. L'ultimo riconoscimento è legato al premio Missione Natura che ha sottolineato la validità del lavoro delle terze A e B. L'Istituto OICOS ha promosso questo bando che promuove le idee legate alla biodiversità. La nostra idea è stata appunto selezionata fra 43 proposte a livello nazionale e le classi hanno avuto quindi la possibilità di realizzare questo evento, l'evento appunto di oggi sulla biodiversità che è suddivisa in diversi stand legati appunto a quelle che sono state i progetti che noi abbiamo realizzato. Coinvolti i genitori, iniziali da Marzia, Federico, Lucia, ma anche il Parco dell'Ostelvio e l'Ersef, gli alunni hanno proposto le loro idee su come intendono la difesa dell'ambiente. I bambini imparano con gioia concetti fondamentali che serviranno loro per il futuro. Salvaguardare l'ambiente con comportamenti adeguati e questa è la sintesi dei lavori che i bambini hanno portato avanti con le insegnanti. Nel corso della giornata i laboratori sono stati aperti anche alle visite dei genitori. Mi fa ancora più piacere questa iniziativa perché è nata da Sondrio Festival, quindi vuol dire che Sondrio Festival non è soltanto il nostro festival di novembre, ma lascia nelle scuole tanta progettualità e anche risorse che si mettono a disposizione per tutto l'anno. Non ultimo è stato affrontato il tema dei ghiacciai in via di arretramento a causa dei cambiamenti climatici. Il progetto della racchetta è fra i dieci vincitori selezionati dalla giuria su proposte che sono arrivate da tutta Italia.